Benvenuti a bordo! Ogni anno, oltre 36 milioni di passeggeri viaggiano sui mezzi pubblici delle linee urbani di Brescia, con una permanenza media di 20 minuti. Persone attive, che si spostano per lavoro e studio con i mezzi di superficie, una o più volte al giorno. Nella flotta dei bus, vi sono 20 nuovissimi menarini Mood con alimentazione a metano, arredati modernamente per rendere comodi i viaggi anche in ambito urbano. Ognuno trasporta mediamente 20.000 passeggeri mese. Sopra i finestrini, di fronte alle porte di ingresso, si trova un banner, lungo 810 cm e alto 50, che ospita un adesivo dedicato ad un'unica azienda. La quota da terra lo rende visibile a tutti in modo certo ed importante, per uno spazio temporale che non ha uguale in altri ambiti e mezzi. Il costo per ogni mezzo, comprensivo di produzione ed imposta, è di pochi euro al giorno, ed è possibile utilizzare un bus o più d'uno in funzione dei contatti che si vogliono realizzare.